Adesso 50 artisti raccolgono quella sfida, una cover corale. Fiorello e Morandi, Loredana Bertè, Diodato, Emma e Fedez, Mannoia, Ramazzotti, Necche e Pelù, Vanoni e Marrakesh e tanti tanti altri ancora, compreso Alessandro Gaetano, nipote di Rino. Un messaggio di vicinanza e speranza per tutti coloro che sono stati colpiti o sfiorati dal Covid-19. Per chi è stato in quarantena e riesce a riassaporare con prudenza quel cielo. La cover fra poco in anteprima sul Rai 1 e poi dalla mezzanotte disponibile ovunque per diffondere un messaggio di solidarietà da cogliere.